Ciao belle, ciao belli, ciao chicchi, ciao chicchi, ciao, 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 stamattina mi volevo dare una truccata veloce, e invece guardate qua che manifesto ho fatto, va buo, allora, volevo girare un paio di video, vi dovrei far vedere pure quello di Zaful, che infatti vedete le tette enormi che ho, è grazie a questo toppino di Zaful che ho preso, questo verde, che naturalmente finisce così, e dietro sta così, c'è sta cosa lungo, ve li volevo far vedere però, quasi quasi ve li faccio vedere e faccio sto video, allora, innanzitutto vi boccio subito questo, che è il 18 ore della Essence, il colore c'è, è tutto quanto so sta, fatto sta che quando chiudi l'occhio, ti sei carca tutto sopra l'occhio e non si è fatto niente, quindi vado a prendere a rubetta e famo sto video, ecchimi a ca', allora, poi ho trovato anche un acqua abbronzante fighissimo che funziona benissimo, allora, scusatemi ma ultimamente so un po' così, la voglia di fare video ci è, ci è, cioè ho voglia di fare video, però allo stesso tempo ho voglia di fare una sega, quindi qual è il problema, il problema è che poi mi metto a letto, magari mi spiattello a letto tutto il giorno, però, vabbè, voi sapete che io ci sono, sapete anche che per me è un periodo un po' particolare e sto cercando di riscoprire un po' tutto, però mi è stato detto che per l'appunto è una cosa abbastanza normale questa, quindi non me la voglio prendere troppo sulle labbra mi sono spiattellata quello che ho preso da ebay e secondo me però stamani mi stava bene pure un colore un po' più forse meno scuro vabbò ora mi ha andato vediamo se quest'altro grigio, perché ho un altro grigio, altri due vediamo se questo dovrebbe essere un po' più chiaro esatto quello è più tendente al blu cobaldo cobaldo oddio cobaldo, non si può sentire cobaldo ecco sempre preso da ebay però questo è questo piccolino e dovrebbe essere meno viola allora, cominciamo naturalmente una collaborazione con Zaful ma è la chettetta che mi fa sto coso perché c'ho reggi seno più questo che è una S ed è imbottito allora cercherò di far vedere i vestiti al migliore dei modi anche perché non avendo nessuno in casa non posso far sì che il mio regista ci sia quindi allora niente, una collaborazione normalissima con Zaful ho due cose da dire su questo sito allora uno la ro... allora due cose devo dire una che le cose costano tantissimo hanno dei prezzi abbastanza abbastanza alti a suo tempo io credevo che questo Zaful fosse un sito cinese e invece a quanto pare non è cinese o lo è però hanno una ce l'ho messi troppi hanno una fascia di prezzo veramente esorbitante cioè nel senso è roba che costa e a suo tempo quando io ci ho collaborato no madonna devo dire che le cose che poi avevo anche messo nel nel corso da ricordare erano molto carucce e c'era anche diversi golfini bellini cicchi cicchi fracche fracche fatto sta che non c'erano più come se mi le hai visto so via ed ho fatto anche molta fatica a trovare cose che comunque mi piaccessero abbastanza però devo dire che come cuciture ci siamo e anche perché diglielo voglio dimmi fai spendere una fratta e poi neanche le cuciture ci stanno quindi devo dire che comunque ci siamo abbastanza allora vi faccio vedere questo toppino qui mi levo semplicemente la maglietta a maniche lunghe ora io gli altri indossati non ve li faccio vedere per il semplice fatto che non c'ho voglia di installarmi così in tutte le volte allora è fatto così vedete c'ha questa riga ne ho presi tantissimi di questi perché bimbe lo sapete io ne porto a bizzeffe così cioè ne porto proprio tanti tanto il resto sono quasi tutte felpe quindi riesco a farvele vedere vi faccio vedere prima questi toppettini allora tutto vi arriva dentro queste scatoline scatoline dentro queste bustine ma non quelle bustine lì quelle quelle sono buste sono bustine allora questo sarebbe molto siccome avevo una percentuale il resto come fanno sempre ho cercato di prendere anche cose che erano un po' più scontate per cercare di prenderne di più quindi di questi per esempio qui qualcuno era per esempio questa è una M che come coppa mi sarà enorme infatti vedete cioè mi sta così e ce ne ho due questo sarà enorme però è fatto così ben grigio e con dietro questa allora io non uso questi solitamente perché questi sono proprio da sport quindi con dietro questa grande cuscitura enorme vediamo se riesco eccolo ok però l'ho presa proprio per questa perché aveva questo buchetto qui e questo qui quindi essendo una M non dovrebbe risultarmi me lo volevo mettere ieri però poi c'è il gangio così e se non c'è qualcuno in casa che mi aiuta a metterlo non lo metto questo poi questo ok allora questi erano tutti scontati anche questo verde ho preso è una S diciamo che è un po' strettino nel senso non è larghissimo però è caruccio mi piace un sacco questa riga dietro e mi piace un sacco che so anche abbronzare allora quest'altro lo stesso questo tende ad essere molto sportivo cioè proprio il genere sportivo quelli che tendo ad indossare io più che generi sportivi sono dei toppini vabbè non genere sportivo questo davanti è fatto così è molto più corto rispetto all'altro sempre con l'imbottitura io le prendo perché mi servono e ne metto due proprio per fammi le tette che non c'ho altrimenti che ce ne facciamo e la cosa bella di questo è la scritta ok è questa qua la bella cosa che hanno questi laccioni con le scritte che mi sono sembrati molto carucci che mi piacevano poi questo è fighissimo nonostante oddio nonostante sia bianco accidenta la puttana Eva e poi dopo vi voglio far vedere che ho un giacchetto peloso bianco che è fantastico a parte il bianco che io non uso moltissimo quasi per niente questo l'ho preso per la legatura perché questo è proprio senza imbottitura quindi semplicissimo però guardate com'è la legatura dietro cioè figa e quindi questo è perfetto da mettere sotto al reggiseno e poi farlo uscire dalle magliettine come faccio io solo io e basta no ce n'è qualcun altro aspettate che tolgo tutto basta non ce n'è più ma livelli piccoli non ce n'è più allora veniamo adesso ai golfini e alle cose un po' più ok allora magari ve le faccio vedendo stati tanto mi metto qui in piedi allora in primis vi faccio vedere è l'unico golfino perché gli altri tendono ad essere tutti tipo giacche allora questa è l'unica maglina naturalmente ed è una taglia L anche questa è una cosa che ho fatto fatica perché di solito nei siti cinesi io prendevo delle taglie che erano o più che non rispecchiavano troppo e invece qui le taglie rispecchiano quindi purtroppo ho preso delle taglie un po' troppo allora questo è fatto così con le maniche aperte e dietro lo stesso è aperto ed è una L ed infatti è enorme ora ora lo posso provare però se lo sapevo avrei preso una M allora vediamo come sta addosso allora a prescindere che io adoro le stelle e questo lo sapete speriamo non sia troppo grande non mi entreranno neanche i capelli qui dentro penso ma questo va dietro grande Cami ce la puoi fare Cami ma che vi devo dire no questo va nella testa a te guarda se uno deve fare questi numeri per mettersi una velpa ok allora esatto no poi addosso non è neanche tanto esagerata ve la mostro allora innanzitutto come vedete sopra è fatta così con le maniche aperte dietro c'è con quella riga verde e lo vedete addosso io ho la tuta vedete per essere un L invece va bene quindi è per questo che vi dico non si sa bene mai come fare con questi benedetti e benedetti taglie e questo ci siamo poi questo vi renderà felici a tutte io lo so bello per essere un L è perfetto ed è favoloso è la fine du monde c'è pure il capello ritto allora questa è una giacchina college guardate il colore questa è una giacchina college taglia L guardate cosa non è lo so che vi farà impazzire allora voi lo sapete io adoro le giacche college e questa mi ha attratto il colore tantissimo quindi me la devo provare e mi ha attratto tantissimo questo rosa porcellino super spiccante pensare che io odiavo il rosa cioè io lo odiavo comunque allora vediamo e questa è la nostra giacchina naturalmente non è neanche è leggera però neanche più di tanto nel senso allora come taglia ci siamo vedete infatti è un casino per questo perché non sai mai le taglie veramente se ti vanno oppure non ti vanno perché nel senso io mi devo fare io vabbè allora la maglia è questa ce la posso fare non vi preoccupate che ce la faccio ok allora è fatta così ora mi metterò i jeans così magari vi faccio vedere qualcosa in più e questa è la taglia L per me è a dir poco perfetta cioè nel senso come taglia va benissimo e questa è la mia giacchina rosa porcellino c'è Agami mando cazzo vai eppure mi piace allora e questa è l'altra poi allora la svolta delle svolte io vedo sto giacchetto poi lo vedi non ho voglia di far video ma quando poi comincio mi fate mi prendete mi prende la svolta delle svolte ho visto sto giacchetto mi so sbrodare mi so sciorta forza dai è bellissimo è un bomber sono arrivata un'altra cosa del sito di brutto lo sapete cosa c'è che si fa fatica a riconoscere i prodotti dalle foto a quando vi arrivano questo è uno di quelli io pensavo fosse un bomber invece è tutt'altro che un bomber allora il giacchetto è questo allora la taglia è plastica ha un odore di plastica esagerato è una L e praticamente cos'è un giacchetto con le borchette similpelle plastica no similpelle e guardate cosa c'è dietro allora io odio questi disegni nei giacchetti specialmente questi uccelli pessimi però mi è piaciuto l'imballo cioè mi è piaciuto troppo e vi ho detto l'unico problema è questo che io credevo che fosse un bomber o comunque un giacchetto di pelle e invece questo non è perché qui è in plastica mentre le maniche sono totalmente in velcro penso felcro e ora poi questo me lo provo ah boh me lo provo adesso però mi devo levare questo no vabbè ve lo faccio vedere anche di questo ho preso una L allora questo comunque indossato è molto carino il problema è che sono estivi gente questa è roba che se ve la mettete ora oggi specialmente c'è questo vento schiattato di freddo allora nonostante è una L come vedete sta bellino largo questo vediamo di vedete bellino largo e a me piace piace molto c'ha questa aggangiatura la cerniera così vi faccio vedere l'unica cosa che ha di pecca e comunque spero vada via una volta che poi comincio a portarlo allora qui c'è già i fili vedete guardate qui c'è già dei fili che vengono tirati e questo non va bene per niente va bene ecco un altro cioè oltretutto questa roba la fai pagare un fottio ora a me mi è stata regalata però voglio dire alla gente gliela fai pagare no oltretutto gliela fai pagare se la trovano pure scuscita insomma cioè che le cuciture siano buone allora il problema di questo giacchetto vediamo se c'è ancora oppure l'ho riscontrato solo nel momento in cui l'ho aperto esatto c'aveva le spalline un po' più ritte e quindi è molto bellino vedete com'è a me piace piace molto devo dire sì c'è piace c'è piace e quindi ok anche questo poi anche questo le spalline è un amore comunque sì bene o male con Zaful mi sono sempre trovata bene perché hanno dei prodottini abbastanza carini allora veniamo a un'altra questa è una felpa che è una ex no io non ero una gabber però quando avevo 14-15 anni comunque si andava a ballare scusate ma bisogna mi sgangi i capelli perché si andava a ballare e io andavo e ho portato per una vita alla fine l'ho dovuta buttare perché era veramente indecorosa la felpa dell'Adidas ai miei tempi andava quella nera con le righe bianche con i jeans e le sui arco quelle enormi quindi appena ho visto questo ho detto va a bola devo prendere ho visto che ora l'hanno rifatte con le righe fin qua e devo dire che non mi dispiacciono come ricordo la vorrei prendere comunque ho preso questa felpa che è in vellutino buona con il cappuccio e niente di che una felpa normalissima che dovrebbe essere taglia unica questa esatto taglia unica e mo approviamo questa è perfetta cioè io a miei tempi andavo sempre con le tute di sopra tuta sopra e sotto jeans regolare quindi vabbò allora vediamo se riesco sempre con questi apelli questa è una one size allora io vi do un consiglio chi porta chi ha per quelle che sono taglia unica per la roba taglia unica se qualcuna di voi è leggermente io dico leggermente perché naturalmente non mi permettere mai non mi permetterei mai mi sguiscia pure le scarpe non mi permetterei mai chi di non prendere cioè la taglia unica a me mi va perché comunque io non ho problemi di però occhia la taglia unica ragazze perché sta cortina pure a me allora questa è la felpa con il cappuccio ma poi è vellutissima cioè potete capire e questa è la lunghezza quindi come vedete è corta pure a moi questa non c'ha nemmeno le tasche ma è di una morbidezza allucinante fatta così quindi è una one size vedete caruccia perché a me piace molto devo dire però ecco state attente perché quelle che sono taglia unica rischiate magari poi che non vi vadano bene l'ultima la penultima vi facete una cosa che è stravolgente allora voi mi direte prendo sempre i giacchetti io ho gli armadi pieni di giacchetti perché uno amo il giacchetto in sé per sé no? come vestiario insieme alle scarpe occhiali scarpe e giacchetto secondo me sono la svolta cioè voi potete andare a giro nei peggio pezzi ma però però avrei voluto magari prendere qualche paio di pantaloni allora leggings no perché ce n'ho uno strafottio e di pantaloni purtroppo innanzitutto non c'era niente che mi piacesse e poi fai fatica con i pantaloni perché se prendi una taglia che comunque poi non va bene fate fatica perché perché poi non la potete mettere cioè più o meno io se i pantaloni io specialmente per i pantaloni sono molto noiosa mi devono stare come dico io se poi mi stanno leggermente più lunghi leggermente più meno stretti no e quindi ho preferito evitare tanto pantaloni poi al cinese mi prendo 10 euro anzi ho da andarci perché non ho più pantaloni non mi entrano più i pantaloni allora questa è la svolta anche questa presa pensando che fosse però diversa invece me la sono ritrovata in un altro modo anche questo è un giacchetto ho preso solo giacchetti lo so però anche questo pensavo fosse tipo bomber cioè anche questo fosse a bomber invece anche questo è leggerino però è favoloso allora guardate cosa non è allora premetto che il rosso non mi fa impazzire a me a linea ti piace tanto a me il rosso non fa impazzire però eccolo questa allora questi fiori le boccio no perché non mi garbano i fiori sul davanti però c'ha questo colletto qui fatto così a college ed è bellissimo e poi guardate queste maniche qui cioè questo bianco qui sopra è fantastico e poi è fatta proprio a giubbottino college e guardate dietro cioè che ve lo sto a dire ma che ve lo sto a raccontare il problema sono i fioricini davanti che sono un po' scrausetti questa quale dovrebbe essere una L e se non è una L anche questa è una L e facciamo se si fa e il bello di questa appunto purtroppo è leggera nel senso ce l'ho ce l'ho ce l'ho qualcosa sotto però lo vedete o me o no cioè guardate come so questi due così laterali bellissimi mi fa un pazzi mi piace tantissimo ah che montato sulla sedia vedete o me mi piace molto 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 davvero vero Uga eh figo ci piace e questa è la penultima è questa che è anche questa naturalmente vista che sembravano un modo invece poi era tutt'altro allora questa naturalmente andrà da lì ve la vi faccio vedere adesso perché naturalmente la taglia addirittura nemmeno coincide proprio la taglia niente no e ve faccio vedere allora questa doveva essere un giacchetto no un giacchetto un felpone fatta a giacchetto allora non capo mi cavo un occhio ho preso una XL perché essendo un giacchetto questi sì però lo vedevo che erano più piccoletti comunque dovevano stare stritti il giacchetto doveva essere un po' più largo e quindi eccolo qua ed è un felpone enorme che sta largo da lì quindi c'ha questa riga qui e guardate dietro bellina questa è molto carina ed è della best classic ad Alina ha detto la sua sorella gli ha regalato una felpa così io ora questa non me la provo perché cioè sì me la provo ve la faccio vedere però non mi va nel senso è una maglia cioè è una classica felpa ecco io so le felpe che portavo a tempi no è anche bellina imbottita questa perché mi sa che c'è il pile vedete com'è ma non è che non la porto magari io la porto pure non è un problema però la do ad Alina perché comunque a lui li va cioè nel senso a lui li va meglio che a me e resta finita ok allora queste erano le cosine di Zaful naturalmente trovate tutti i vari link nell'info box vi faccio vedere l'ultimo giacchetto perché è quello che merita di più e vi porto a vedervi allo specchio che ci merita fatemi sapere naturalmente ora vi metto magari anche una fotina su facebook si ciao su facebook su instagram ed eccomi qua vabbò come ve lo faccio vedere no così si vede in cacchio eccoci ed è biglino da morire si piace si 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 va bene io e Ugezio vi salutiamo trovate tutto quello che vi serve nell'info box io vi mando un grande bacio volevo fare la risposta ai commenti ma ho un cellulare solo quindi dovrei scrivere tutto mi devo fare i capelli mi voglio fare il piercing anche se lì non vuole io vi mando un bacio fate brave ciao ciao app